Le organizzazioni stanno rapidamente adottando iniziative di innovazione digitale per accelerare le loro attività, ridurre i costi, migliorare l'efficienza e fornire ai clienti migliori esperienze. Con questa infrastruttura in evoluzione nascono anche nuovi rischi per la sicurezza. Tutti questi cambiamenti rendono obsoleto il concetto di pedimetro di rete difendibile. Molte organizzazioni fanno affidamento su una serie di prodotti per la sicurezza non integrati e quindi non sono in grado di avvantaggiarsi dell'automazione nella loro implementazione della sicurezza. Inoltre si richiedono professionisti più qualificati. Il Fortinet Security Fabric affronta queste sfide di sicurezza. Grazie. Grazie a tutti.